I numeri sui contagi e i ricoveri di questi giorni raccontano di una provincia bat che dovrebbe rientrare al massimo in zona arancione, ma il presidente Michele Emiliano ha ritenuto di richiedere per l'intera regione le restrizioni previste per la zona rossa, ignorando la possibilità concessa dal governo di diversificare le zone in una stessa regione. A parlare di Beffa per la provincia di Barletta, Andrea Trani e la segreteria provinciale di Forza Italia, che con una nota a firma del coordinatore Marcello Lanotte e dei segretari cittadini di tutti i comuni, ha esposto perplessità anche in virtù di quanto accaduto a dicembre con la batte in zona arancione a fronte del resto della regione in giallo. L'auspicio della segreteria provinciale azzurra è che la regione Puglia torni sui propri passi, magari su sollecitazione dei sindaci. Diversamente, affermato la notte, non saremmo sorpresi da eventuali class action promosse da intere categorie produttive, che ormai stremate ed abbandonate a sé riterranno di non avere più istituzioni affidabili con cui interloquire. A proposito di categorie produttive, perplessità sulla batte in zona rossa, sono state espresse anche dal direttore provinciale di Confessi Arcenti, Mario Landriscina. Si aspettava tutti l'arancione, come si stava già dicendo da qualche giorno, invece ci siamo trovati in zona rossa, con gravi chiaramente ripercussioni, non soltanto questa volta sulle attività di ristorazione o dei pubblici esercizi, ma anche per quanto riguarda le attività, diciamo, di merci varie, perché soprattutto per l'abbigliamento è stata una mazzata, visto e considerato che si stavano, si sono già approvvigionati per le festività pascolali e quindi sono anche pieni di merce. Nel frattempo stavano anche terminando le vendite a saldo. Se avessimo probabilmente puntato a un lockdown generalizzato a livello nazionale forse sarebbe stato meglio, ma chiaramente tra, come si dice, fare il sentimento sempre il mare, c'è sempre qualcuno che ha un'idea diversa. Adesso in questo momento, probabilmente anche in Puglia, alcune province potrebbero essere sicuramente zona arancione, se non gialla, ma ciò non significa che tra un po' potremmo trovarsi nel caso esattamente opposto, quindi la considerazione nostra è che si vada invece molto, molto, molto spediti sul piano di vaccinazione affinché si esca tutti alla stessa maniera.